Quando un figlio tornava a casa da scuola, quando ancora gli smartphone non esistevano. Ciao Teo, com'è andata a scuola oggi? Vuoi che ti... che era facilito? Ok, dai, fai il freddo, su. Quando un figlio torna a casa, ora nel tempo degli smartphone. Ciao Pan! Ciao! Ehm... 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 Si, 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 tu? Dava, per...